Pozzuoli ha avuto fama fin dall'antichità non solo per il suo porto e per la bellezza del suo paesaggio ma anche e soprattutto per le sue acque minerali. Infatti in epoca romana fu una delle più famose stazioni termali e per l'abbondanza di sorgenti maleodoranti meritò l'appellativo di Puteoli da cui deriva il nome attuale. I romani riuscirono a dare all'area flegrea la fama di luogo dove curare tutti i malesseri del corpo e della mente, una nomea che impiegò pochissimo tempo a percorrere tutto il mondo allora conosciuto e i romani si resero artefici di una campagna sistematica di sfruttamento delle fonti termali flegree. Caduto l'impero romano tutta l'area termale flegrea e i centri più rinomati e famosi vissero poi un lungo periodo di declino ed oblio sebbene nonostante tutto le terme non smisero mai di funzionare. Poi a seguito dell'opera di Pietro da Eboli i De Balneis Puteolanis scritta nel 1200 alla corte di Federico II di Svevia, gli svevi prima e gli angioini poi incoraggiarono una popolazione all'uso delle sorgenti flegree affini terapeutici. Sul lago Lucrino presso una piccola collinetta di tufo chiamata Monticello del Pericolo su cui gli angioini avevano anche edificato un castello sorse ben presto un villaggio chiamato Tripergole da tre pergole ossia tre stanze equivalenti a quelle antiche terme che si companevano di un frigidarium un tepidarium e un calidarium. Il villaggio fatto costruire da Carlo II d'Angio si sviluppò dove più numerose si addensavano le fonti e le terme romane quindi proprio a seguito dell'afflusso dei numerosi malati che oltre ad avere un certo numero di case aveva due chiese un ospedale con circa 30 letti con annessa una farmacia tre osterie per forestieri e infine una casina di caccia reale ma con l'eruzione vulcanica del monte nuovo avvenuta nel 1538 la topografia del luogo cambiò totalmente venne cancellato completamente il villaggio di Tripergole scomparve il Monticello del Pericolo e vennero totalmente distrutte o sepolte le antiche sorgenti termali di epoca romana che si trovavano presso il villaggio. Degli antichi stabilimenti termali la città di Pozzuoli conserva i resti di ben tre stabilimenti termali dedicati a Diana e a Nettuno e un terzo situato presso il bellissimo Serapeo. Le terme decadute con la città a seguito di invasioni barbariche saccheggi e fenomeni naturali furono poi studiate scientificamente dal monaco Caldino tra il 1200 e il 1200 che le riportò alla luce restaurò e infine le descrisse in versi dedicati all'imperatore Federico II tuttavia verso la fine del 1800 le antiche terme puteolane furono nuovamente abbandonate sostituite da nuove terme sorte nella plaga flegrea. Pozzuoli quindi tornò a essere conosciuta e frequentata per le sue acque e per le sue cure solo nel 1930. Fu un crescenso d'alicandro a interpellare l'architetto Federico Sabino perché costruisse il famosissimo edificio rosso e giallo sul lungomare l'hotel terme puteolane che oltre a offrire ai propri ospiti un bellissimo panorama ospitava un centro benessere. L'albergo era quindi un polo attrattivo rinomato e frequentato dai locali e non locali personaggi famosi e appartenenti all'alta nobiltà. Tra quelli che volentieri si fermarono per una sosta curativa ci furono Totò, Edoardo De Filippo, il principe Umberto II di Savoia e alcuni presidenti della Repubblica. Lo splendido edificio edificato su una delle sorgenti termali puteolane, la sorgente termale ai piedi del monte Olivano o della Solfatara, vede oggi la sua attività conclusa e l'intero edificio è oggi in disuso.